Noi giovani vogliamo dare un senso vero alla vita. Vogliamo vivere la fede in modo completo e con gioia. Non da soli, ma insieme ad altri. Affinché possiamo conoscere e amare meglio Cristo. Per essere verosale della terra e l'uso del mondo. Cari giovani, dopo tanto tempo vogliamo incontrarci. Per questo siete tutti quanti invitati al prossimo incontro delle Vosie del Verbo. Formazione. Preghiera. Divestimento. Vi aspettiamo numerosi dal 24 al 27 febbraio a Vitorchiano. Non mancate, vi aspettiamo? Vi aspettiamo, non mancate! Vi aspettiamo, non mancate! Ciao ragazzi, vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Ti aspettiamo! Non mancare, ti aspettiamo! Ciao ragazzi, vi aspettiamo! Vi aspettiamo numerosi! Ti aspettiamo! Non mancate, vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! vi aspettiamo non mancate